brb l'ho un pacchetto carino accetto costoso ronale fi da era poco ti fa scivolare unos so la hoc Non so... Cazzo è stato... Attento Ma, ehm... Vorrei fare un video BORCA TROIA Mike BORCA TROIA ! Grazie a tutti. 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 Niente! Non ho sparato un colpo! Non ho sparato un colpo! Devo salvare. Ma hai fatto zero danni. Zero! Zero! Anzi, 28 perché... Sì. Eh...